ragazzuoli contro ogni pronostico siamo qua per parlare già dei vanno i futuri perché hanno proprio cliccato le immagini c'è qualcosa di forse mai successo prima d'ora o forse una volta soltanto comunque ragazzuoli un bel like iscrivetevi recuperate davvero la miriade di video usciti nei giorni scorsi e ragazza news su youtube instagram e tik tok detto questo iscrivetevi e like e buona visione allora sono bentornati oggi su grand cross global ma soprattutto già app in quanto ovviamente escono prima le cose perché si si parla di banner futuri e hanno riccato ben tre banner a quanto pare non da 70s x perché sembra che non siano le state riccate da 70s x ma da qualcun altro per appunto questo riku sembra che credo che vengano da lui e non da 70s x comunque io ho questo posto e questo vi faccio vedere ad ogni modo ragazzuoli prima di iniziare volevo assolutamente ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto lasciando un bel like e ovviamente non mancate live tutte le mattine e tutti i pomeriggi tranne il sabato perché sì da questo 2024 dopo ben tre anni di live tutti i giorni 7 giorni su 7 due live al giorno ho deciso di mettere il sabato come giorno off infatti ieri non ho streamato è stato molto strano perché è stato molto strano non streamare io che è dal 2021 compreso che streamavo sempre quando potevo almeno che tipo che ne so per la mondo nucleosio è saltato un giorno oppure per il luca comics però ecco non ho mai saltato un giorno per schedule ed è stato veramente strano ma comunque la trovate sul ministeram detto questo non continuiamo troppo con queste cose per voi magari spero non siano spero non futili ma che magari possono esserlo e parliamo subitissimo del primo banner in questione in ordine di tipo di come viene mostrato e si parla di shin nuovo shin finalmente da dopo tre anni tipo l'ultimo shin ragazzi se mi sbaglio il rosso ed è halloween 2020 tipo 2020 se mi sbaglio c'è è un 21 è veramente qualcosa di vecchissimo e finalmente arriva il nuovo shin non è shin mk2 in quanto è una step up ha la stessa ult dell'altro quindi mk2 insomma quella wiken non è quella wiken quindi sì è uno stesso shin però almeno è una nuova versione però tra l'altro se non vedo male non mi sembra di vedere nemmeno il colore di questo suddetto shin quindi boh non si sa che colore sia se vuoi mai uscire il verde e rosso questo sarà blu non mi ripeto non mi sembra di vedere il colore ma comunque scopriremo al tempo debito e ovviamente una step up tra l'altro non fate caso alle date perché ovviamente lì c'è scritto 8 gennaio sarebbe domani ovviamente non è vero quindi insomma sono date che sono falsate e ovviamente poi già vari posti ce lo vanno a confermare se non sbaglio anche 7 di slx lo dovrebbe aver detto continuando come secondo manner e il prossimo ragazzi dovrebbe essere confermato essere quello che vi sono per far vedere e si parla di nuovo king alle complete tra l'altro in stile se vogliamo samurai credo molto carino molto carina la skin per chiunque se lo stessi chiedendo no non è un fest prima che mi bombardiate di messaggi non è un fest ragazzi questa anzi è la classica versione ormai non è una novità è la classica versione non fest del fest ad esempio lost vein blue che è la versione non fest di lost vein rosso e se non mi sbaglio forse c'è anche un altro esempio non forse se non voglio dire una calzata ad esempio lits god oggi non mi ricordo vabbè come usi inizio rossa con le ali si inizio rossa con le ali ad esempio ma comunque questo è un banner non presto un banner a 600 ed è un personaggio non fest ovviamente a tale proposito che conferma questa cosa ovviamente il banner ricordatevi che fino ad ora è sempre stato così da quattro anni i fest escono solo ribade da 900 e hanno il coin ovviamente quello con le puntine minimo almeno che non si parli di mail di monking che ha un nuovo coin ma dettagli e per appunto questo manderà 600 questo ci conferma che non è un test è però ovviamente il banner che celebra il nuovo anno insieme a mail di monking e quindi arriverà probabilmente come prossimo banner sul jap dovrebbe arrivare il 11 perdonatemi e sul global il 16 segnatevi tale data in modo tale che se volete pulare già lo sapete ovviamente il banner ancora non si sa possiamo vedere tra l'altro che è lo stesso king ha le complette non fest però del fest dalla ulti perché la ult è la stessa quindi questo è comunque il nuovo king l'altro che sembra molto carino design particolare e se non mi sbaglio non mi sembra ci ne sono tanti su gran cost con questo design e samurai è però ad esempio un faccio un gioco al nome a caso slime e seca memoris ha adottato molto spesso questo design samurai ed è molto figo continuando abbiamo l'ultimo banner che è il fulcro di questo video perché finora abbiamo realizzato bene o male due banner però uno più futile dell'altro se vogliamo perché stiti shin totalmente sti cazzi sarà una unit totalmente schippabile anche se è una step up di questo king girano voci che sia promettente però abbastanza sti cazzi quasi nello stesso modo ma arriviamo al fulcro che a me non piace come opera perché anzi l'anime io ho visto l'anime ho provato a vederlo perlomeno l'ho abbastanza droppato e si parla di collab si parla di collab e si parla di tower of god questo ragazzi è il banner già liccato la cosa però che mi fa storcere un po il naso è che sono tre personaggi nuovi apparentemente più o meno e non quattro in questa immagine sono tre ragazzi c'è lei che la ricordo dall'anime c'è il tizio e poi c'è quell'altro laggiù quindi è strana come cosa anche qui come abbiamo detto non non guardate per appunto la roba del della data perché non è una cosa ufficiale quindi anche qui la data intendo non è una data ufficiale quindi letteralmente potrebbe uscire a fine mese perché potrebbe uscire magari invece a fine mese della live ragnarok che girano voci che potrebbe esistere live collab chi lo sa sarebbe tanta roba secondo me però comunque prendete da quelle pinze intanto però saprate che c'è in cantiere la prossima con la battaglia diciamo come tema tabro god questo è un po il succo del discorso girano voci però che c'entri qualcosa con origin ma non ho ben capito di cosa si tratti effettivamente questa è l'unica cosa che mi viene un po il dubbio ditemi nei commenti effettivamente cosa c'entra anche perché ho visto molte voci in giro riguardante questo 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 collegamento con origin e non ho sinceramente ben capito cosa si intende per questo collegamento con origin però effettivamente di tenere nei commenti che magari ci farò un video sopra perché a me non mi fate capire se avete capito essenzialmente e quindi ragazzuoli queste sono le tre immagini liccate ora controllando un po in giro al volo non mi sembra ci sia tra l'altro c'è anche una collab sul gacha di tower of gold con nanatsu e c'è per appunto questo post qui che è quello che riguarda origin e lo traduciamo ragazzi letteralmente insieme a voi perché è tutto così istantaneo e già un po ragazzi allora se lo traduce presto collaboreremo con le seconde di sins origin ok probabilmente questo il post è in questione aprendo una piccola parentesi ora ve lo sposto un attimino in modo tale che lo possiate vedere per intero probabilmente questo il post qui si riferiscono anche perché ricordo che tower of god ha un gacha che si chiama tower of god new world e per l'appunto sta per arrivare la collab con a quanto pare stiamo avendo dei sins ma origin e faranno uscire il miglior ad azielisabeth e escanor quindi è questo per l'appunto cui si stavano riferendo un po tutti e adesso effettivamente ho capito quindi praticamente riassumendo abbiamo questi nuovi tre banner liccati tra cui nuovo skin step up nuovo king ali complete banner non fest e lui non è feste e prova con lo perché vocifera potete arrivare a fine mese e non a fine marzo ma addirittura a fine gennaio quindi prendetela con le pinze ma colab contavano scuote e al tal proposito arriva il leak per il gacha di tower of god cioè tavolo tavolo contro new world su cui dice che a breve arriverà alla collab con le serenze dei sins ma non anime o comunque opera ma in particolare con le serenze dei sins origin questo potrebbe anche portare a pensare a una sua possibile uscita recente chi lo sa e personaggi in questione saranno migliorati elisabeth e escanor aprendo una piccola parentesi ragazzi non capisco come si possa fare una una collab con un gioco che ancora non c'è perché ragazzi mi ricordo che origin è previsto se non mi sbaglio non vorrei dire una cazzata ma per fine 2024 tipo quindi insomma questo leak per quando è effettivamente perché se fra se fra otto mesi è un discorso se fra un mese per dire esempio come può fare collab tower of god new world con origin che ancora non è manco uscito boh stranissima come cosa ovviamente lo scopriamo a tempo debito però sappiate che c'è questa collab in cantiere su tower of god new world con origin quindi c'è se vogliamo c'è questa collab da ambilate perché su gun cost c'è la collab con tower of god e su tower of god new world c'è la collab con origin in futuro in programma questo questo link quindi tanto tanta roba si prospetta essere tanto tanta roba e tra l'altro piccola parentesi che mi sembra di non aver detto io l'ho droppato la tower of god di conseguenza almeno che non siano mega però che ne tipo albedo quindi indispensabile o quasi monocopia tutti sti cazzi ragazzi a metterlo così non mi piace devo essere sincero con voi sono contento che esce da roba god perché non mi piace non me ne frega un cazzo quindi in caso di skip comunque semplicemente pularne tutti o al massimo come per albedo il personaggio chiave io compro tutte le schiene me ne esco sono più che contento meglio così che per esempio un eminence shadow che avrebbe minato pesantemente i miei fondi quindi insomma questo è un po il discorso sono molto contento che escono in genere perché ripeto non me ne frega un cazzo lo dico onestamente mi dispiace per i fan da bar of god anzi buon per voi che esce perché mi piacerà però a me non piace di conseguenza se ne fa tranquillamente a meno sicuramente le avrò li vorrò tutti ovviamente come tutte le collab però sicuramente non li porterò al semi questo è un po il discorso quindi ragazzuoli io vi ringrazio lasciate un bel like vi chiedo semplicemente di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like ragazzi davvero iscrivetevi perché dobbiamo arrivare ai 30 mila mi sono inceppato l'obiettivo 30 mila iscritti ovviamente recuperate tutti gli altri video guardate a sinistra qua sopra nelle schede e let's go boys e ciao a tutti ragazzuoli